Bisogna cambiare, perché se la Calabria ha così tante difficoltà vuol dire che quello che è stato fatto finora non è sufficiente. Bisogna prendere le lezioni che sono state positive, che ci hanno fatto crescere, partire da lì e proporre qualcosa di nuovo. Perché dobbiamo rispettare questo titolo? Lo dice tutti. Il futuro è Calabria. Io ci credo tantissimo in questa cosa. Bisogna fare le scelte giuste, crescere, puntare sui giovani, sulla competenza, sulla comunicazione, attirare piuttosto che trattenere. Questa è la cosa su cui dobbiamo puntare.